In questi ultimi anni il retail per cui è anche qui fatico a dire il luogo fisico di consumo perché anche gli attuali spazi del consumo che noi vediamo e vediamo che io vi ho portato in un'ombardia anche di creventi, per cui spazi contaminati, sono spazi dove entra la tipologia e interagisce in quel luogo fisico, cioè voglio dire il camerino filmale che noi abbiamo visto appunto online è uno spazio che aveva un inizio nei epistettias di Crada e che era una citazione intermittente, meno una citazione artistico comunicativa, nel senso che era uno dei primi esempi, non funzionava neanche bene, ma il concetto rivoluzionario era quello di utilizzare altre superfici per far interagire l'utente con lo spazio.